Si parte signori, la prima storia, la prima missione Fabio? Silenzio Silenzio No, ma ho un proiettile con il tuo nome sopra Il mio partner sarà qui da un momento all'altro e comincerà ad ammazzarvi tutti, uno a uno E tu, mio caro? Ssh, ssh, ssh Questo farà male Molto Ultime parole Come sta tua sorella? Dobbiamo Si parte No, vabbè, raga, scusate Io vi muto, raga, perché se devo mettere sta roba su YouTube Un po' sollege Omash e fa Fabio, cazzo, stai? Arrivo, eh Scusate ragazzi, di muto almeno per quando facciamo le missioni perché altrimenti è un casino Petra Venge, grazie per l'invito Che stai preparando per la festa? Questa roba l'avevamo già vista in inglese Per fortuna l'area principale e i livelli inferiori sono sigillati Ma se i sistemi di sicurezza crollano Il confinamento diventerà problematico Un giorno come un altro Va bene partner, questo è un blues in do minore Seguimi per i cambi d'accordo e cerca di tenere il ritmo E ora si va in prigione Si va in prigione, dunque C'è una rivolta nella prigione Cade è andato per i fatti suoi Noi andiamo per i fatti nostri Andremo a vedere un po' Che cosa ci sarà da fare Alzo il volume Assolutamente sì I caricamenti di Bungie Ti prego Aiutaci tu Eh, pur Cade Eh, lo so Eh, lo so L'emblema di Dart è che è perché lui ha preso lo spadone La scorsa stagione E quindi si becca l'emblema esclusivo Durante questa stagione Wow Questi hanno davvero voglia di ballare La faccenda va chiusa qui Se quegli assassini escono Invaderanno l'atollo Ok, ci dividiamo e li facciamo fuori E uno, due, tre Wow Tornate nelle vostre celle Facciamo con i robot spazzini Chiamo una bella ripulita Che gran casino che c'è C'è un gran casino Wow Wow Quanta esperienza Purtroppo ragazzi Le armi sono quelle che sono Perché con Il Destiny Item Manager Che Che non va C'ho quelle che mi son tenuto Da prima del reset Quindi purtroppo sono un po' così Ditemi se i volumi sono ok Petra, Petra Dobbiamo riattivare i sistemi Ok Questi simpaticoni Non ci stenderanno Il tappeto rosso Per entrare Io in alto Tu in basso Io in alto Tu in basso Ok, quindi c'è Cade Che ci sta seguendo dall'alto Che ti ha insegnato Quella bossa Io Dico bene Come vedete Il reglietto di Fogna Sono tutti Simpaticissimi nemici Che sono scappati Dalle prigioni Che stanno combattendo tra loro Giusto per fare un po' di casino Io non mi sono messo L'equipaggiamento adatto Però aspetto Sono con Si va Si sale 31 Obiettivo 50 Grande Cade Questo è il momento più vanno Della mia vita Della mia vita Della mia vita Sarebbe fiero Non li faccio Non li faccio Sempre lì sopra Vedi che Cade È inseguito da Il canone portatile Questo qui È il colpo di mezzanotte Simp Beccana e Raid Galus Sono i stiletti Che volano Sciottata la maniarda Sciottata L'ultimo argomento È il più sicuro Stiamo avvicinando al centro di sicurezza Ricevuto Quaggiù è tutto spento Non riesco a raggiungere la prigione Attenzione là sotto Non facciamo parte del piano No chi è che spara lo stiletto Questo è il centro di sicurezza Sgombriamo l'area Prima di entrare Ok 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 Ho 20 minuti di roba Da scaricare Bon forsaken A tutti Ciao franchino Bella Stiamo facendo soltanto La prima missione Per il momento Sì l'ho zerata apposta Poi mi sono gli altri Guarda Rimuovi i residui Ed elimina l'alveare Che sta succedendo al pavimento L'alveare sta imbrattando tutto Possiamo tenere Ok Stipenza dell'alveare Ora dovrebbe accendersi Ricordati di cancellare i dati Certo Ovvio Domanda Come si fa? Premi il pulsante rosso Ma sono tutti i rossi Allora premili tutti Ha funzionato Incredibile Me la cavo alla grande Aia Scherzavo Non ha funzionato Altri tre sistemi da ripulire E urla dell'alveare Riuscirai a fermarti solo alla prima missione Hype troppo grande Immagino Non lo so Vediamo Passo passino ragazzi Passo passino Assistenza tecnica Senza alcuna pietà Ok Dovrebbe essere tutto a posto Ma adesso mi chiede Una specie di attivazione secondaria Dovrebbe esserci un terminale sulle passerelle Verrei con te Ma mi hanno detto che ci sono delle torrette E vorrei provarle Una cosa Io e te Grande squadra Ci penso io a quella Ci stanno mettendo proprio Del loro eh Per farcelo Per farci sentire la sua mancanza In questa prima missione Oh Le torrette hanno una modalità manuale Molto interessante Allora Allora Eccomi Scusate Ho fatto Con le taglie Ho fatto un livello Pensavo di più Ma Un livellino solo O quelle che mi ero tenuto Eh dico C'è una treccia Ah c'è abbastanza gente No Porta chiusa Qualche dritta per me Scanzi una console Attivo il sistema di sicurezza Ah scusate Tutto ok Petra Sì Sto accedendo ai livelli inferiori Verifico solo un paio I livelli inferiori Noi possiamo andare a festeggiare Capaz A me basta che paghi tu da bere Piccolo Step Intermedio Dunque La prigione Per il momento Almeno livelli Superiori Li abbiamo più o meno Locchiati Sembrerebbe che ci sia ancora Qualche piccolo problema Ai piani In basso Il rame non ho a fruglio Poi giù sembra tutto a posto Devo solo controllare Un'ultima cosa Non ho a fruglio No ho a fruglio No, 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 Cade è sparito, non si tratta di una rivolta, ma di un'evasione, la camera d'equilibrio sul Ponte Zero è l'unico modo di uscire da qui, riusciranno a scappare, non se ci arriva per lui. Ha l'ha fatta proprio crollare. What the... What the... Con il fatto che Cade metteva questi prigionieri appunto lì da... sull'atollo insieme a Petra diciamo che tra loro si è creato un pochino di... Questa è la scena che conosciamo, mi sa. Ma è stato meglio. Quanto è gnocca. Visto che roba Petra. Petra? Ehi là. Devo aver rotto il trasmettitore con quel lantiragio spettacolino. E vai con la musica in Faust. Ok ragazzi, tornate nel legato. Ho detto, tornate nel legato. Qua c'è Cade che fa i numeri. Questa è la sequenza che abbiamo già visto nel trailer rilasciato da Bungie qualche giorno fa. Yes, siamo a posto. Già, fa male. Dispiace. Non proprio. Colpo di scena. Doppio colpo di scena. La nuova Super la usa lui per primo. Basta. Adesso sono incazzato. Allora? Tutto qua. Allora? Allora? Ace è il figlio per chi non lo sapesse Cosa succederà? A che cosa stiamo andando incontro signori? Guardate le collezioni, attenzione possibile svenimento di goduria Bene, è successo quello che è successo, quindi ci tocca andare a cercare Cade Ma quello è sicuro, Twisted Tracce di etere, attenzione ai caduti evasi Tracce di etere C'è qualcosa nei paraggi Ed è molto vicino I nuovi nemici signori Abbiamo davanti il devastatore Con le loro lanterne Il loro punto debole è la lanterna appunto Quindi Occhio al fuoco Inutile colpirti la testa perché non ce l'hanno praticamente Queste cose prima erano caduti Queste cose prima erano caduti Dice che è stato qualcuno a trasformarli così Allora questa roba che hanno il punto Che vi dico da un'altra parte Ci piace Perlomeno ci dà il feeling di sparare Da un'altra parte Come vedete fanno danni ad aria Quindi Uh ho preso un blu Ho preso un blu Ho preso un blu Ho preso un blu Non mi sono svuotato le armi Più scendiamo Più etere corrotto Incontriamo Etere corrotto Quindi qualcosa di corrotto c'è Oh Questo razziatore si teletrasporta tipo Allora l'aggiornamento forse lo devono fare tutti Non sono sicuro però Ciao Leon Bella Grande grazie Benvenuto Cos'è si teletrasportano sti qua Cos'è che trema tutto? Sono loro che fanno tremare tutto Tutti devono scaricare? Ok perfetto Buon assaperci Si va sotto i tubi Si va sotto i tubi Si va sotto i tubi Il bottino di Kaid Non l'ho ancora visto Quindi non lo so ancora Paramita Questi esplodono Una sorta di schiavi dei caduti Fanno anche male Il loro critico è sulla schiena Ma non si va da nessuna parte Dead Space 2.0 Questa è l'esplosione che abbiamo già visto nel trailer Dobbiamo trovarlo subito Lo spettro di Kaid è stato fatto fuori Qui c'è una sorta di rito Hanno fatto qualcosa per evocare L'abominio demente Che verrà meltato Istantaneamente Resisti Kaid Stiamo arrivando Resisti Kaid Stiamo arrivando Eccolo Ultram Non ha sentito nulla Come stanno i capelli? Senza parole Tipico Oh no Non c'è niente che Posso Mi dispiace Ascolta Questo Non è colpa tua Ecco Che si ottiene A fare i buoni Dio a Zavala E i cora Che l'avanguardia La migliore scommessa Che abbia Mai perso Piccola Notizia Lui parla di scommessa Perché Kaid è diventato Exo Dopo che Aveva Tra virgolette Perso Quasi tutti i suoi averi E per ripagare Dei suoi debiti Appunto si è fatto Trasformare in Exo Da umano Da umano E anche il suo tempismo Volevo ridere Davvero Saremmo dovuti Essere lì Non è colpa tua Questo È tutto merito Di Uldrensov Ma se pensa Che questa sia la fine Si sbaglia È solo l'inizio Lo affronteremo Hai capito? Tutti noi Ogni titano Ogni stregone Ogni cacciatore Prenderemo Da salto L'Atollo E poi Monteremo La testa Di quel bastardo Sul suo Preziosissimo Trono Per la nostra Squadra Per Kaid No Eccolo lo Zavala Non siamo Un'armata Nemmeno Conquistatori Siamo Guardiani Dobbiamo Rimanere qui A casa nostra Con la nostra gente E il viaggiatore L'Atollo È andato perso Insieme alla sua Regina Se un altro Sov Vuole Quell'ammasso Di rocce Può averlo Ma è di Kaida Che stiamo Parlando Fare nulla Sarebbe Eh Dillo Codardia Mi rifiuto Di seppellire Altri amici Non dovrei Farlo Uldrensov È mio Finalmente Parliamo Il nostro Personaggio Ha una voce Dunque Kaid Ci lascia così Con Ikora Pronta a fare La guerra E Zavala Invece Pronta a fare Il contrario Dunque Ora A quanto pare Noi Siamo Soli In questa avventura Come andrà avanti CHloni Siamo E C앉 Siamo Siamo